Gentili telespettatori, buona giornata. Giuseppe Conte dice ecco che tipo di fratelli siete voi, altro che fratelli d'Italia, dice Giuseppe Conte, il presidente del Movimento 5 Stelle. Bene, il presidente non c'è. Fratelli d'imposta, secondo Giuseppe Conte, ma perché fratelli di imposta. Irritato, Giuseppe Conte nel suo intervento in aula ha tentato di provocare e innervosire la Meloni che è già nervosa di suo. E' così, dopo quello che è successo ovviamente. Giuseppe Conte fa di tutto per raccattare voti, però con un comportamento davvero brutto, nel senso che ve l'ho descritto tante volte, ve lo descriverò anche in questo video. Quindi Conte cerca di provocare in tutti i modi la Meloni, facendo allusioni. Peraltro l'ex premier è stato messo alle strette sul salario minimo, perché la Meloni dice Caro Conte, visto che continui a gridare su questo salario minimo e grida e grida e grida e sbraita, ma scusa, sei stato tre anni e mezzo al governo, 365 giorni per 3,5. Quindi facciamo un calcolo, sei stato al governo, 365 per 3 anni e mezzo, sei stato al governo 1277 giorni. Per fare un salario minimo ci vuole un passaggio parlamentare, una cosa anche abbastanza veloce, una settimana, sette giorni per fare il salario minimo. Perché non l'hai fatto? La Meloni dice a Conte, quando vai a fare le manifestazioni contro il governo dicendo non vogliono il salario minimo, ma tu porti le persone in piazza, ma quelle persone in piazza dovresti dirgli che tu in tre anni e mezzo perché non l'hai fatto, cioè dovresti spiegare a quelle persone il perché non l'hai fatto. Ma attenzione, perché Conte non spiega a quelle persone perché non l'ha fatto? Perché quelle persone manco se lo chiedono. Questo è il punto grave, cioè un Giuseppe Conte può portare le persone in piazza senza che quelle persone si chiedano il perché lui non l'abbia fatto in tre anni e mezzo. Perché Conte lo fa? Perché proprio quelle persone non se lo chiedono. Perché non se lo chiedono? Eh insomma, diciamo che il livello medio italiano non è proprio un granché. Cioè una persona va addirittura in piazza contro il governo perché non vuole fare il salario minimo quando quello che li porta in piazza è proprio quello che avrebbe dovuto farlo e ha avuto tempo tre anni e mezzo e non l'ha fatto. Ma quello lì va in piazza con la bandierina il governo non fa il salario minimo. Ma guarda, ma cosa stai dicendo? Ma guarda che quello che ti ha portato in piazza non l'ha fatto il salario minimo. Eh fa niente contro il governo. Eh un po'... Avete capito perché i capi politici prendono in giro gli italiani così? Perché hanno capito che lo possono fare. Perché hanno capito che l'italiano va lì con la bandierina. Ecco, insomma, diciamo che il capo politico prende in giro gli italiani perché gli italiani si fanno assolutamente prendere in giro. Perché? Eh perché insomma, il livello è quello lì. Quindi la Meloni ha proprio detto ma chiedetelo a lui perché non l'ha fatto. E Conte dice io oggi sui banchi del governo vedo seduta la Fornero, non la Meloni. E lì Salvini aveva gli occhi sbarrati perché quando parli a Salvini della Fornero, lui è 12 anni, 13 anni, che promette ai suoi elettori di cancellare la legge Fornero, però Salvini non si è mai chiesto come mai in 12 anni nessuno ha modificato la legge pensionistica. Erano tutti cattivi? Tutti dei space vampire? Dei vampiri spaziali che ce l'avevano con i poveri pensionati, con i poveri italiani? No. Eh, semplicemente la legge Fornero non è mai stata cancellata perché non lo si poteva fare per mancanza di soldi. Ci sono sempre più pensionati e sempre meno lavoratori, il paese invecchia sempre di più e quindi la spesa pensionistica cresce e cosa devi fare? Da una parte diminuire l'importo dell'assegno della pensione e dall'altra parte aumentare l'età pensionabile, se no l'Italia va dritta dritta al fallimento. Non è che arriva il buono Salvini e sconfigge l'impero del male, perché non è così? Quella è una storiella, come vi dicevo prima, per l'elettorato. Dice, ma l'elettorato non capisce questa roba semplicissima? Evidentemente no. Dice, perché non lo capisce? Eh, fate un po' voi, fate quattro valutazioni, ma Salvini promette delle cose irrealizzabili e l'elettorato ci crede. Conte va contro il governo dicendo che non fa il salario minimo senza che il suo elettorato capisca che era lui quello che doveva farlo. Voi direte, ma il livello è così basso? Eh, insomma, se uno più uno fa due e due più due fa quattro, eh, fate due conti e vi date una risposta da soli. Poi continua Conte, dice, il suo nuovo motto è io sono donna, io sono madre, quindi pago più tasse. Da fratelli d'Italia siete passati a fratelli d'imposta. Conte dice, voi per abbassare le tasse, per fare tre aliquote su quattro e dare quei 19-20 euro in più agli italiani per mantenere il taglio del cuneo fiscale, per fare l'abbassamento delle tasse, che è reale, eh, attenzione, l'abbassamento delle tasse, la Fornero ieri da Formigli interviene perché Formigli dice, professoressa a Fornero, è vero o no che le tasse sono aumentate o scese? Perché in studio c'erano le due tifoserie, avete aumentato le tasse, no, le abbiamo abbassate, no, i soliti tifosi, squalli di tifosi delle due fazioni, destra e sinistra, abbiamo abbassato, no, allora Formigli dice, scusi Fornero, lei che è professoressa di economia, ci dica, ste tasse sono aumentate e si sono abbassate. E la Fornero dice chiaramente, non potendo mentire, dice, no, le tasse nel suo complesso sono scese. Però dice, se di qua scendono così tanto, io devo mettere delle altre tante piccole tasse per cercare di farle scendere così tanto di qua, quindi se vi ho tagliato l'IRPEF e vi ho confermato il cuneo fiscale, una parte di quell'abbassamento delle tasse l'ho dovuto fare mettendo tante piccole tasse. Però alla fine, facendo somme e differenze, nel complesso le tasse sono diminuite. Questa è la realtà. Che piaccia o no a quelle di sinistra, nel complesso le tasse sono diminuite. E molti soldi però per la diminuzione delle tasse lì sono state presi da un'altra parte. Se no, non si poteva fare. Arrivederci a tutti e grazie.